Per noi è la prima volta, purtroppo, così di sempre con la festa a San Frodo, che è tutta la terra, quest'anno è stata, di una domenica, la vostra, di un saluto, di un saluto, di un saluto, di un saluto, anche qua, siamo contenti, noi siamo di San Frodo, alle porte, poi è l'occasione del nostro trentesimo compleanno, siamo sicuri, anche, contenti di festeggiarlo, visto che avete tante leite, vi mando tutti a San Frodo, proprio per la nostra festa il 17 agosto, 17 agosto, grazie che ci siete anche voi, iniziamo poi alle 4, con un bello trentico in piazza, scattato a tutti in piazza, abbiamo già tantissimi gruppi che hanno dato l'adesione, scuola qui e vicina, poi c'era, sotto il mercato coperto, e vi dico a chi non è la serata, con proiezioni del nostro, del nostro percorso in oro, che speriamo sia ancora lungo, anche se la chiamo già due dei più di tensionati da tempo, però l'idea è qualunque un simpante nel vero, perché ho che, a se ne vuoi inizio prima di spistare, non lo dico da presto. Allora a tutti per il 17. Allora a tutti i miei 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 Grazie. 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 Grazie.